Per quanto possa sembrare un'informazione così, giusto per, vi dico subito che invece è l'informazione che ci interessava. Il semplice fatto è che adesso il nostro attacker va da sé che, tenendo in considerazione tutte le vulnerabilità su quel server web sul quale si era concentrato, già sa che la 1.3.19 ha una lista di bug, quindi decide di scaricare tutti i bug messi a disposizione che si trovano ampiamente su internet e passati così all'attacco. Quindi come vedete, facendo l'analisi degli step, la fase finale, quindi quello dell'hacking, non è nulla senza una precedente numerazione, una precedente scansione o un precedente footprinting. Bisogna prima conoscere il luogo sul quale attaccare, poi dopo si passa all'attacco e quello che poi a noi interessa successivamente è quello ovviamente di armarci delle contromisure necessarie. Fondamentalmente è un po' come ragiona un ladro normale quando deve andare a svaliggiare una casa o una banca. Studia prima il territorio, vede gli orari di apertura della banca, vede gli orari di apertura della posta, si informa praticamente dei movimenti che ci sono lì fuori, si informa magari del personale attivo o meno e così ragiona un attacker. In conclusione, allora la conclusione del nostro caso studio, il caso studio trattato quindi è evidenziato come Apache, in questo caso, era la versione 1.3.9, è una versione piuttosto vecchia e soprattutto vulnerabile, il resto è cosa nota. Quindi violazione del server web, accesso con tutte le credenziali e l'hacker fa quello che vuole. Se è un attacker, ovviamente provvederà a modificare in maniera malevola il server web trovato. Adesso andiamo ad analizzare i singoli step. Foot printing, allora abbiamo detto che appunto è la prima fase con la quale un attacker ragiona, è l'arte di raccogliere informazioni sull'obiettivo a cui si è interessati. Che cosa occorre? Così come il ladro, quello della vita reale per la banca, occorre tecnica, pazienza e soprattutto riflessione. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di ridurre a brandelli l'obiettivo, la nostra vittima. E in che modo? Il foot printing è una cosa che potrebbero fare un po' tutti, dall'utente normale a quello professionista. Sicuramente il professionista lo fa perché sa bene che per portare avanti un attacco deve fare foot printing. Il caso studio che vediamo adesso in questione riguarda appunto le piccole e medie imprese, che poi tra l'altro è anche l'argomento principale del Linux Day di quest'anno. Allora, gli elementi utili ed eventuali azioni da compiere. Prima di tutto, pagina web aziendali. Fa il mirroring di tutto il sito, utilizza vget da terminale e decide di scaricare tutto il sito. Così magari se lo vede con comodo o in offline, tende ad avere una maggiore attenzione per quanto riguarda le righe di commento, perché sono le più interessanti. E poi soprattutto, un'altra cosa anche abbastanza interessante, è la ricerca di indirizzi VPN. Questo perché? Perché molti dipendenti di molte aziende hanno accesso tramite VPN. se io decido di avere come obiettivo la mia azienda che si chiama Caso Studio e ho intenzione di hackerare il profilo di un suo dipendente di cui conosco il nome, già posso pensare di fare vpn.nomeazienda.com. Sicuramente è un indirizzo che esiste e sicuramente ci sarà un utente là che deve logarsi. Organizzazioni correlate, anche in questo caso possono trovarsi sia in chiaro che a mezzo codice. Tenete presente che molte aziende magari fanno fare i propri siti web da altre aziende e questi ovviamente anche per motivi di copyright o di vanto personale tendono a precisare che appunto il sito web è di loro realizzazione. Dettagli sulla sede, nessuno strumento migliore di Google Earth, Maps o anche Terraserve. Questo è il punto più bello, dipendenti, vita, morte e miracoli. Pensate ai social network. Anzi, il vicepresidente del Naluk non c'è, non c'è, sta fuori. Pensate che quando abbiamo fatto la ricerca degli sponsor, perché bene sì, per mantenere questa baracca abbiamo bisogno di sponsor, abbiamo fatto un pochino di footprinting sui dipendenti di qualche azienda che ci interessava. Bastava avere nome e cognome e fondamentalmente tramite i social network avevamo scoperto vita, morte e miracoli di tutte le persone. Eventi correnti, quindi fusioni, acquisizioni, scandali, licenziamenti, autostalking e soprattutto in Italia il sito della Consob, che sia benedetta. Le politiche di sicurezza, quindi ogni dettaglio fa la differenza. Perché se l'attacchano in questione a una talpa all'interno di quell'azienda e le politiche di sicurezza escono fuori, è la fine. Informazioni archiviate, la cache di Google, in piccolo, vabbè l'ho dovuto scrivere in piccolo perché in pratica non c'entrava, c'è praticamente il modo per trovare la cache di Google di un sito di esempio, infatti se riuscite a vedere c'è www.esempio.com, quindi basta digitare quella stringa sul proprio browser e poi arrivare quindi alla cache di Google relativa a quel dominio. Dipendenti o clienti scontenti, sono i peggiori, perché potrebbero fare azioni di dubbia moralità. Una cosa che spesso dico alle persone che mi chiedono un minimo di consulenza è state attenti a un dipendente che ha un Arcos o uno Sharp Zaurus, sono strumenti micidiali, e che si sappia è Arcos che ha inventato i tablet. Motori di ricerca, il caso di Google Hacking Database, vi consiglio di cercarlo su internet, contiene le stringhe di ricerca per arrivare ovviamente a quelle che sono le vulnerabilità che ci interessano, un pochino come il nostro caso studio, solamente che quel caso studio ovviamente per motivi di tempo non ho avuto l'opportunità di aggiornare. Ovviamente molto altro ancora, perché indipendentemente da queste informazioni che può avere chiunque a disposizione, ci sono quelle anche leggermente più tecniche. Cioè l'enumerazione di un server WIS o DNS, per un'enumerazione intendiamo una scansione mirata a una determinata vulnerabilità. Sui server WIS e sui server DNS. Si apre il terminale, si utilizza WIS, oppure si va sul sito dell'ICAN, wis.iana.org, dove praticamente abbiamo a disposizione un'interfaccia grafica web sulla quale avete tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Provatelo a fare su Unina, escono informazioni piuttosto interessanti. Interrogazione del DNS. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione del DNS, esiste la tecnica del trasferimento di zona, poi successivamente se abbiamo un po' di tempo cercherò di parlare del Kaminsky Attack. La tecnica del trasferimento di zona è una tecnica obsoleta, però ci sono ancora molte aziende che a quanto pare non ci tengono alla sicurezza, che utilizzano server DNS davvero datati, davvero vecchiotti. E quindi basta digitare un semplice DNS, look up su quel determinato indirizzo DNS e cominciare a giocare, magari l'accesso è più semplice di quanto possiate considerare. Per trasferimenti di zona, per distinzione diretta tra DNS interni ed esterni, questa è una cosa che sempre consiglio in fase di consulenza, bisogna stare bene attenti perché il trasferimento di zona in pratica permette il travaso totale del database dal DNS primario al DNS secondario. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica si può hackerare tranquillamente un DNS secondario sul quale magari le politiche aziendali vengono decise di non curarsi totalmente. Riconoscimento della rete tramite le tecniche di tracerouting, tramite terminale, sempre traceroute, nome host da terminale, consente di visualizzare il percorso seguito da un pacchetto IP durante il suo viaggio. C'è in questo caso un esempio, ho comunque una lista di indirizzi IP e in questo caso magari si può iniziare a fare tipo qualche ipotesi, posso pensare che magari l'ultimo della lista, ovviamente sono liste lunghissime, parliamo nell'ordine del centinaio, posso magari immaginare che l'ultimo indirizzi IP che mi va a trovare possa essere un router sulla dorsale, che quindi magari è quello il DMZ, per DMZ si intende in zona demilitarizzata, ed è quindi quello il firewall, quindi è quello l'indirizzi IP sul quale voglio lavorare. E' un bel po' di cose sul quale il nostro attacker, insomma, può giocare, può lavorare. Le contromisure, adesso vediamo la parte interessante, come difendersi? Punto primo, un amministratore di sistema, direte che si rispetti, deve conoscere a memoria quel libro, il site security handbook, che è reperibile a quell'indirizzo. Utilizzo costante di alias, che aiutano la vita e soprattutto allungano la propria tranquillità per quanto riguarda la sicurezza della propria azienda. Le funzioni di anonimato offerte dal provider del dominio, ci sono alcuni provider che con 10 dollari in più, insomma, sul proprio servizio, garantiscono anche servizi di anonimato. E poi soprattutto, una cosa che molti sottovalutano, è un sistema di autenticazione forte. Contromisure invece per la sicurezza del DNS, allora, il caso d'uso è su bind, bind è il server DNS più utilizzato attualmente in circolazione, due cose da tenere in considerazione. La prima è il costante upgrade, appena c'è un bug, rimanete informati, subito dovete passare all'upgrade. E la seconda cosa è quello di giocare un po' con la variabile alloftransfert, che sta nel file etc, bindnamed.conf. Perché? Perché se la variabile alloftransfert è attiva o meno, può darsi che i nostri server DNS siano soggetti a pericoli di trasferimento di zona, come abbiamo visto nel caso precedente. Configurazione di un router o di un firewall con blocco a connessioni non autorizzate sulla porta TCP 53, che è appunto la DNS zone. L'utilizzo delle transaction signature, che sono praticamente delle politiche relative alla gestione degli utenti che devono accedere a quel particolare firewall, quindi ogni utente ha ovviamente le sue limitazioni. E poi attenzione ai record H-info. Sconsigliati, disattivateli. Perché sono la prima informazione, tramite footprinting, sul sistema operativo. Nel momento in cui un attacker conosce il vostro sistema operativo, voi potete dire ciao ciao. È la fine proprio. E ancora, contromissione contro il trace routing. Allora, esistono gli DS e i needs, gli intrusion prevention system. Uno dei più interessanti, anche perché siamo a Linux dei, parliamo di open source, e snort, scaricabile a quel sito. Uno dei miei preferiti, invece, è il roto-router. Questo fa controattacco, praticamente. Perché in pratica, registra richieste di trace route in arrivo e dare delle risposte fasulle. Quindi, se un attacker, praticamente, fa trace route verso la mia rete, il roto-router genererà delle risposte fasulle. E ancora, configurazione dei router di confine, soprattutto in modo da limitare il traffico ICMP e UDP, solo a servizi e sistemi specifici. Una particolarità, i sistemi DS non sono perfetti. Ricordatevi, l'attacco sarà sempre un step avanti rispetto alla difesa. Magari si possono pareggiare i conti, però purtroppo l'attacco sarà sempre un step avanti. Quindi, chi è addetto alle contromisure necessarie all'interno delle vostre politiche aziendali, o anche a casa vostra, perché anche i nostri computer di casa devono essere difesi, quindi non stiamo parlando solamente di realtà business, ma anche di realtà home. Insomma, bisogna stare comunque attenti. Non tutti gli IPS sono perfetti. Infatti c'è uno strumento di monitoraggio, Nessus, o meglio OpenBus, la sua variabile, che in pratica riesce a bypassare tranquillamente un intrusion prevention system come Snort. Un'altra particolarità sulla quale volevo insistere è il traffico dei ICMP e degli UDP. ICMP e UDP sono due protocolli di rete che lavorano in chiaro, dove per chiaro intendo che si vede tutto, ma tutto, tutto. Anche perché, vabbè, ICMP rilascia informazioni e messaggi sullo stato della transazione. Invece UDP praticamente, vabbè, si preoccupa solamente di un passaggio diretto di pacchetti senza curarsi di quelli che ha perso per strada. E chi usa Whatsapp? Nessuno usa Whatsapp. Bellissimo. Perfetto. Whatsapp utilizza UDP. Le vostre informazioni viaggiano in chiaro. E una delle particolari... Prego? Certo, infatti, una delle ultime due vulnerabilità uscite che sono proprio di Whatsapp, una è per quanto riguarda le conversazioni in chiaro e una per quanto riguarda l'autenticazione. Quella delle conversazioni in chiaro a quanto pare sembra che sia stata risolta, però quella dell'autenticazione invece tramite Mac si è ancora a disposizione. E non utilizzatela, anche perché non è software aperto, quindi non ci interessa. Scansione. Allora, che cos'è la scansione? La scansione non è altro che picchiettare contro le pareti, qua stavo cadendo, per trovare tutte le porte e le finestre. Attenzione a quello che ci è sottolineato in parentesi, magari già aperte, perché in questo magari già aperte c'è già la contromisura. Le tecniche adottate quali sono? Sono quelle del ping sweep, delle query CMP e soprattutto degli individuali servizi in esecuzione. Il ping sweep non è altro che è il bombardamento di ping sulla vittima. E si può fare praticamente tramite questi strumenti. Fping, Nmap, ICMP Enum. Fping ha la particolarità che invia in parallelo i ping, in round robin, Nmap quando funziona con l'opzione SP e poi giustamente ICMP Enum fa la numerazione sui protocolli ICMP. Query ICMP altrettanto, con l'attenuante che questi, perché non li ho segnati, li segnerò prima di pubblicarli, danno informazioni base sul sistema. Quindi orario, lingua, versione del sistema operativo installato. E poi soprattutto, adesso quelli più interessanti, individuare servizi in esecuzione o in ascolto, perché ricordate bene il caso studio. Abbiamo lavorato sui servizi che erano in ascolto, quelli che avevano le porte aperte. Gli strumenti interessanti che voglio porre alla vostra attenzione. Strobe. Strobe è un cattura banner e lavora sulle porte TCP. Strobe è un programma potente, purtroppo però lavora solamente su TCP. se lavorasse sugli altri protocolli come NETCAT o NMAP sarebbe davvero una gran cosa. Scusate come NETCAT perché NMAP pure lavora solamente su due protocolli. Strobe è stato scritto nel 1995 da un tale Julian Assange. Chi lo conosce? Ah ok, perfetto. Non siamo a livello di WhatsApp, però ok. Altro strumento, UDP Scan, che funziona come strobe ma su protocolli UDP. NETCAT, lo ripeteremo all'infinito, è l'arma definitiva, guardatevi davvero bene il manuale perché possono scegliere delle cose interessanti. E poi NMAP invece fa scansione di base sia su protocolli TCP che UDP. Allora, un particolare caso d'uso e qua magari ritorniamo anche sull'enumerazione dei servizi DNS. Il caso studio che voglio portare alla vostra attenzione è quello praticamente del bombardamento civetta. Con questo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che in pratica un attacker può decidere sempre molto democraticamente di sommergere di informazioni fasulle o informazioni superflue il proprio obiettivo. E in che modo lo fa? Tramite l'opzione "-d", del comando, mi sono perso un comando per strada, stavamo parlando di NMAP. Sì, di NMAP. La sintassi è molto semplice. NMAP, opzioni, della scansione che mi interessa, indirizzo IP di riferimento, "-d", indirizzo IP civetta. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io sto bombardando la vittima con informazioni che magari un IPS riuscirebbe a rilevare come veritiere quando poi alla fine i veritiere non sono. Ovviamente per fare un attacco civetta ci vuole un indirizzo valido, altrimenti poi si giunge a una condizione di indisponibilità del servizio. La linea di ragionamento che c'è dietro l'attacco civetta fatto con NMAP è lo stesso che c'è dietro il DNS Kaminsky Attack. Conoscete Dan Kaminsky? L'avete mai sentito? Questo tipo? È un ragazzone sui 30 che magari è anche molto attivo su Twitter, quindi lo potete anche aggiungere e vedere un pochino che cosa dice. Questo ragazzone nel 2004 mentre studiava molto allegramente nel suo campus universitario improvvisamente capisce che il protocollo DNS sul quale si basa tutta la rete internet capisce che ha un grosso problema ed è un problema che in linea di principio è quello praticamente dell'attacco civetta fatto con NMAP. In pratica quando noi facciamo una domanda DNS DNS ci risponde in un modo cioè ci risponde praticamente con il nome del servizio del nome del dominio che ci interessa. Ha scoperto che sommergendo di domande DNS tramite un attacco praticamente di forza bruta come si suol dire anche se in questo caso passatemi il termine ma non è propriamente corretto DNS rilascia praticamente tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno credenziali d'accesso servizi sui quali sta lavorando domini attivi eccetera questo poi magari è un caso che si avrò l'opportunità in futuro vedremo un pochino di spiegare in dettaglio scansione allora strumenti di rilevamento ho segnalato questi due sia perché sono open source sia perché hanno questa simpatica interfaccia grafica e sono piuttosto sfiziosi c'è CEOPS che è uno strumento onnicomprensivo serve appunto per la mappatura della rete ed integra tutte le funzioni di cui abbiamo parlato fino adesso più il rilevamento del sistema operativo TKINED invece è estensibile dotato di GUI però non ha il rilevamento del sistema operativo come vedete è anche molto semplice in questo caso CEOPS fa una scansione rileva N computer e mi rileva anche il sistema operativo con queste simpatiche icone che fanno molto